Javier Sanetti Milito Maicon Saltato gli Anculovski che si fa saltare con troppa facilità Milito ancora dentro Maicon 3-0 Spettacolo puro Fabio Incredibile, Milano non c'è più Perché basta una sovrapposizione L'entrale di Maicon che forse l'avevamo criticato Ci aveva sentito Ha fatto una percussione centrale 1-2 Ed è andato in porta Che gol Poi è andato a salutare dei suoi amici Lì dietro Ha attraversato anche la panchina in Milano L'ha guardato brutto, clara in sedo Ma è incredibile questo trancolo Da Milano in 15 minuti Ecco, qui la panchina secondo me è un'intervenuta Perché come giusto L'ha sistemata un 4-4-1 Però sempre molto, molto offensiva Soprattutto dalla parte di Maicon Infatti non può entrare Ma non ha le capacità per andare a chi Ma negli ultimi 20 minuti lì davanti hanno fatto Quello che hanno voluto I triangoli stretti sono andati in porta Perché tutti i gol sono arrivati col giocatore